La mia sfida è fatta qui alla sua, insieme a un cento di ferita. Tre ore di spettacolo, non solo musica, per ripercorrere 50 anni di storia di successi. Claudio Baglioni parte da Firenze con il tour Al Centro, un viaggio nelle arene indoor che attraverserà tutta Italia, in oltre 40 date, con il palco al centro e il pubblico, disposto a 360 gradi, che potrà assistere a uno show senza precedenti. Si parte dal 1968 con Signore Alia e si attraversa mezzo secolo di grande musica, ripercorrendo tutti i più grandi successi dell'artista romano. Il cantautore, che anche quest'anno sarà sul palco dell'Ariston per presentare il Festival di Sanremo, ha definito lo show un'avventura importante, uno spettacolo quasi temerario, una specie di romanzo musicale di canzoniere lungo 50 anni. Sul palco, insieme a Baglioni, oltre 30 ballerini e performer, accompagnati dalle note di 21 musicisti polistrumentisti, che grazie alla presenza di fiati e archi, permettono alle canzoni di avere arrangiamenti nuovi. Sul palco anche acrobati. Sul palco anche acrobati. Il gruppo anche acrobati. Il gruppo anche al nostro accidents, tutto ciò che è stata online da avere arrangiare una testa di refcorare la mano. Sul might Course Ecco